Inaugurata questa mattina a Dercolano la prima passerella per disabili su una spiaggia libera. Un progetto che nasce dalla sinergia tra le associazioni per dimostrare che l'handicap non è un limite invalicabile, ma un'opportunità per rafforzare il senso di comunità. La spiaggia è stata dotata di una passerella e di due serie job, serie speciali per consentire l'ingresso in acqua al disabile. La passerella è stata inaugurata sulla spiaggia di via marittima dal sindaco Ciro Bonaiuto, alla presenza del presidente dell'associazione Nuovo Progetto Ercolano Nicola Florio, dei consiglieri comunali Ciro Santoro e Andrea Fienco e del giovane Salvatore che è riuscito così nel suo intento di raggiungere il mare senza nessuna difficoltà. Abbiamo realizzato una passerella per consentire diversamente abili di accedere al mare ed è una conquista straordinaria se consideriamo le difficoltà che vive la mia città, Ercolano, ed è bello che questa passerella sia su una spiaggia libera proprio per dare la possibilità a tutti di godere della nostra bellezza. È giusto che si possa consentire a tutti di poter accedere alla spiaggia. Voglio ringraziare le associazioni che hanno contribuito a realizzare quest'opera ed anche i consiglieri comunali che hanno lavorato anche fisicamente per allestirla. L'espressione della capacità di coesione e di collaborazione tra tutte le forze, quelle istituzionali. Quindi il mio grazie va anche al consigliere Fienco che come è stato sottolineato dallo stesso sindaco è stato praticamente operativo. Lo abbiamo fatto tutti insieme, insieme a Nuovo Progetto Ercolano, insieme a tante associazioni che hanno scelto di sostenere non tanto un progetto ma una necessità sociale. Grazie all'associazione Nuovo Progetto Ercolano il mare è veramente per tutti. Ciò che mi sorprende ancora è che nonostante tutte le difficoltà che si possono avere la cittadinanza ha risposto bene nel gestire, nel montaggio della petana ci siamo ritrovati tutti a collaborare come se fosse un grande entusiasmo della prima volta per i bambini per andare a mare. Grazie alla proposta che ha fatto Ciro Santoro, la sua proposta di allestire su questa spiaggia libera la passerella è stata accolta con grande entusiasmo dall'associazione Nuovo Progetto Ercolano, Direttivo, Soci e Comitato Sostenitori e della tante associazioni che hanno contribuito, qualcuna in particolare ha contribuito all'acquisto di una seconda sedia job per dare la possibilità a questi ragazzi di andare al mare fare il bagno in tranquillità. Quindi noi diciamo le passerelle le costruiamo, non le cavalchiamo. Grazie a tutti.